Il Cagliari esce sconfitto anche da San Siro, 3-0 il punteggio finale contro la squadra di Gattuso. L'undici di Maran non riesce ancora una volta a contenere la squadra avversaria nel primo quarto d'ora. Subisce il gol e poi deve inseguire, ma lo fa senza la convinzione necessaria, finendo per compromettere la propria gara. Possesso palla, 27 minuti per il Milan, 23-42 per il Cagliari. Presa poco la stessa percentuale, 53% contro 47%, il 60% nella propria metà campo per il Milan, il 59% nella propria metà campo per il Cagliari. Ciò significa che le due squadre hanno adottato un sistema simile e hanno dovuto attaccare a difese schierate. Lo vedremo poi anche nei dati relativi ai passaggi che questo elemento finisce per essere ancora una volta concordante per la particolarità dei lanci lunghi. e per lo stesso numero quasi in percentuale dei lanci lunghi e dei passaggi corti. Andiamo a vedere invece i tiri in porta, 17 per il Milan contro 7 per il Cagliari. Netto quindi il dominio da parte della squadra rossonera che sul piano individuale era chiaramente molto più forte. Il Cagliari era sbagliato tanto anche sul piano individuale. Tiri in porta del Milan, 10 contro quelli del Cagliari che sono stati solamente 3 dall'area di rigore, tutti e 3 quelli del Cagliari. 6 invece quelli del Milan, tiri andati fuori 7 per il Milan, 4 per il Cagliari. Andiamo ancora a vedere le occasioni da gol. 11 per il Milan, 6 per il Cagliari, esattamente il doppio, quasi il doppio, praticamente mezzo punto per arrivare al dato duplicato. Per quanto riguarda invece i passaggi riusciti, qui 411 per il Milan, 295 per il Cagliari. Ma le percentuali tra i passaggi riusciti e tentati sono simili. Ciò significa che il Milan ha tenuto il posto di palla o comunque, pur avendo avuto un posto di palla poco superiore, ha avuto la capacità di far girare più veloce il pallone, visto che il numero di passaggi sono molto di più. Abbiamo detto 411 contro 295. Passaggi lunghi sono presso a poco gli stessi, 30 a 28. Il Cagliari si è affidato quasi esclusivamente a questi per tentare di sfondare nell'area avversaria. I passaggi medi 136 a 118. La differenza notevole è nei passaggi corti 245 a 149. Passaggi corti che hanno portato il Milan ad avvicinarsi più spesso dalle parti di Cragno. Azioni manovrate 34 a 30, le ripartenze 13 a 16. Andiamo a vedere anche i dati chilometrici delle due squadre che evidenziano che non c'è stata grande differenza di rendimento dal punto di vista atletico. Stavolta il Cagliari non ha pagato questo dato. Distanza percorsa 106.107 per il Milan, 106.99 o meglio 990 per il Cagliari. Velocità media 6.8 per il Milan, 6.9 per il Cagliari. Quindi tutto sommato un rendimento, quello dell'insieme rosso-blu, che non è andato peggio del Milan. Sono i giocatori nella loro performance individuale che hanno faticato. E probabilmente questo è l'errore fatto da Maran, cambiare ancora, cercare soluzioni, non trovare soluzioni. Quindi il voto per Maran è 5, disarmato l'aggettivo che abbiamo scelto per lui. Andiamo a vedere invece i giocatori. Cragno è stato protagonista di una partita commovente. 8 parate e 3 gol subiti. Se non fosse per lui la partita sarebbe finita veramente con una goleada per il Milan. È un portiere che sta rendendo necessario al Cagliari per evitare le figuracce. Ma malgrado lui faccia di tutto, alla fine si perde con punteggi rotondi. Commovente l'aggettivo per Cragno, uomo partita. 6 e mezzo il voto per il portiere che non può e non deve essere assolutamente travolto anche nel suo rendimento da quello che fa il resto della squadra. Per Serna una partitaccia. È vero che ha giocato 61 palloni con 48 che sono andati a buon fine. Ma si è comportato come il più giovane dei giocatori andando a fare delle superficialità esagerate. In particolare nel secondo gol di Pacchettà si è dimenticato di essere un calciatore. Ha dimenticato l'uomo che gli è passato alle spalle. Si è fermato prima e ha permesso il gol del raddoppio. Anche sul primo gol, sulla respinta, non è stato reattivo, è rimasto un po' a guardare. 4 e mezzo per Serna, il voto superficiale. Pisacane viene prima di Cepitelli, 33 passaggi giocati con 27 andati a buon fine. 3 recuperi di palla, una palla persa. Diciamo che ha fatto quasi tutto quello che si doveva fare. Perché anche la percentuale dei palloni giocati rispetto a quelli riusciti è veramente molto alta. Il recupero palla rispetto alle palle perse pure è vantaggioso, però è stato travolto dagli eventi. Pisacane continua a fare delle buone partite, non riesce però a far fruttare anche, un po' come Cragno, il discorso. 5 e mezzo il voto per Pisacane, 3 gol subiti, sono tanti. L'aggettivo che abbiamo scelto è appunto travolto. Cepitelli, dopo l'autogol, sfortunato, è andato un po' in panne. Ha sbagliato tantissimo, ha avuto 3 occasioni da gol. Ha tentato di rimediare ai suoi errori, ne ha fatto altri purtroppo pesanti. Voto per Cepitelli, 4 e mezzo. Sfortunato l'aggettivo che abbiamo scelto. Pellegrini è stata forse l'unica novità positiva della partita. È stato promettente nel suo percorrere la fascia di sinistra. È andato a recuperare 5 palloni, ne ha perso 3, quindi positivo anche da questo punto di vista. Però è vero che i due gol sono nati entrambi dalla sua corsia, da quella dove era presidiato, dove doveva presidiare sia lui che Padoini. Quindi voto per Pellegrini, 5 e mezzo. Promettente l'aggettivo che abbiamo scelto. Faragò, voto 5. 32 passaggi giocati, con 24 riusciti. 2 recuperi palla, 3 palloni persi. Non è partito mai, doveva essere lui a spingere insieme a Serna, ma forse anche proprio perché Serna lo ha bloccato. Faragò non si è visto nella sua solita spinta in attacco. 5. Il voto per Faragò, bloccato l'aggettivo per lui. Ionizza, un po' il discorso di Serna, incastrato nel 4-4-2. Non ha avuto la possibilità di inserirsi in fase offensiva. Ha giocato 29 palloni, che non sono tanti, visto che ha giocato 76 minuti. 24 andati a buon fine, quindi quelli che ha giocato li ha giocati anche bene. Un recupero palla, 3 palloni persi, 5 anche per Ionizza, incastrato. L'aggettivo per lui. Barella è ancora una volta colui che ha corso di più. 79 palloni giocati, quello che ne ha giocato di più. 55 palloni riusciti, 3 recuperi palla, diminuito anche nelle palle perse, solamente 2. Per Barella il voto è 5 e mezzo, impotente l'aggettivo. Padoin, spostato a sinistra, stavolta ha fatto l'esterno di centrocampo, di sinistra. Ancora un ruolo inedito per il giocatore che nasce destro e di questo sembra che a Caglia si siano dimenticati. 27 palloni giocati, ha fatto anche il cross sul colpo di testa di Joao Pedro nel corso del primo tempo. 24 palloni andati a buon fine, 2 recuperi palla, nessun pallone perso, però è un giocatore spaesato. Troppi pochi palloni che ha giocato, anche se ha facilitato la corsa di Pellegrini. 5 con aggettivo spaesato. Joao Pedro è un po' l'eroe mancato della partita perché ha giocato 33 palloni, 16 andati a buon fine, tre occasioni da gol, tutte nitidissime, non è riuscito a segnare anche per un pizzico di sfortuna. 3 recuperi palla, un solo pallone perso, voto per Joao Pedro, 6, condannato l'aggettivo. Andiamo a vedere invece Pavoletti. Pavoletti si è speso per la squadra, come si vuol dire, 29 palloni giocati, 18 andati a buon fine, un recupero palla, due palloni persi, una sola occasione da gol. Veramente troppo poco per l'attaccante che si è dovuto allontanare dall'area, generosa la sua prova, 5 e mezzo il voto. Bradalic 10 minuti senza voto, De Iola invece ha giocato 22 minuti, è significativo il dato in questo caso, tre palloni giocati, due palloni persi. De Iola 5, voto smarrito. Despodov ha giocato 14 minuti, ancora più significativi i dati in questo caso, perché non risulta nessun pallone giocato, risulta un solo pallone perso. Non è certo stata ieri la prova per poter verificare le qualità del nuovo acquisto bulgaro. Quindi riassumiamo il voto per Maran 5, disarmato, Cragno 1 partita 6 e mezzo, commovente, Serna 4 e mezzo, superficiale, Pisacane 5 e mezzo, travolto, Cepitelli 4 e mezzo, sfortunato, Pellegrini 5 e mezzo, promettente, Faragò 5, bloccato, Ionizza 5, incastrato, Barella 5 e mezzo, impotente, Padoine 5, spaesato, Joao Pedro 6, condannato, Pavoletti 5 e mezzo, generoso, Bradalic senza voto, De Iola 5, smarrito, Despodov senza voto.